ciao a tutti e bentornati a gioca con me giochi per bambini oggi sono qui con la mia torta anti stress che come vedete è una torta molto gustosa e molto buona mi verrebbe voglia di addentarla subito ma bando alle ciance oggi faccio una cosa che sicuramente a voi piace molto lo so perché abbiamo fatto tanti video ve l'abbiamo chiesto tante volte e avete sempre risposto allo stesso modo tagliamo questa torta anti stress e vediamo come all'interno guardate com'è soffice vi giuro mi verrebbe voglia di addentarla se non fosse di plastica tagliamo un pezzettino dentro sembra un marshmallow sembra proprio un marshmallow dalla morbidezza dalla consistenza e quindi ancora più voglia di addentarla mi raccomando se l'avete in casa dite a tutti che di plastica è finta è finta ragazza è una torta anti stress è finta onde evitare spiacevoli inconvenienti allora guardate che morbidezza vedete abbiamo tagliato un pezzettino aspettiamo che si riformi si rimette a posto perché si ingrandisce un po ovviamente ci vuole un po di tempo facciamo che affrettiamo i tempi noi perché rimettiamo il pezzettino all'interno della torta e vola come se nulla fosse successo come se la nostra torta fosse sempre stata intera e poi siccome è una torta anti stress guardate come la modelliamo bene cioè questa consistenza vedete che si sta allargando pian pianino ovviamente gli serve un po di tempo però questa consistenza dicevo permette di veramente maneggiare modellare questa torta miliardi e miliardi di volte e poi c'è da proprio soddisfazione non so voi ma questa questo tipo di torta a questo tipo scusate di consistenza proprio da soddisfazione nel maneggiarla torturarla insomma renderla veramente un qualcosa di anti stress è molto molto morbida ovviamente beh come vi dicevo comunque questo era un esperimento per mostrarvi come era all'interno e per mostrarlo anche a me perché in realtà non l'avevo ancora visto e abbiamo proprio constatato che sembra un vero e proprio marshmallow ecco qua all'interno perfetto sembra che non sia successo niente come nuova dolcissima e super anti stress un piccolo video per un piccolo esperimento per voi una chicca che so che vi incuriosisce sempre guardare cosa c'è all'interno di queste cose slime pasta intelligente tagliare e palline anti stress insomma vi interessano molto queste cose quindi vi ho anticipato sui tempi come si suol dire bene ragazzi spero che il piccolo esperimento vi sia piaciuto che la mia idea vi sia piaciuta noi ci vediamo come sempre prestissimo vi aspetto sul canale puntualissimi per tante altre novità tanti altri piccoli esperimenti tante altre piccole idee un bacio a tutti a presto mwak mwak mwak